eccoci qui ragazzi buon pomeriggio benvenuti in questo nuovo video allora le pagelle di betis roma però prima volevo fare due considerazioni con voi e mi devo togliere qualche sassolino dalla scarpa perché è giusto stare vicino alla squadra è giusto di farle giusto sostenere i calciatori però io ho sentito troppi elogi e troppi entusiasmistici come si suol dire valutazioni della partita di ieri della roma che per tanti ha fatto una partita stupenda una partita da grande squadra ragazzi noi ieri dovevamo vincere per rimediare alla sconfitta casalinga dalla settimana prima per avere quel lumicino di possibilità di arrivare i primi nel girone e non abbiamo vinto cioè noi in quattro partite di europa league con squadre nettamente inferiori a noi abbiamo fatto quattro punti abbiamo perso con il ludocorez che è una squadra di lega pro abbiamo perso in casa con il siviglia con lezzi in chi abbiamo vinto nel secondo tempo solo perché c'è la sbloccata di bala sino manco quella vincevamo e a siviglia comunque abbiamo fatto un secondo tempo discreto roma non abbiamo fatto una grande partita io non capisco tutti questi entusiasmi cioè io non mi ricordo parate del portiere del siviglia è vero che loro hanno segnato su un autorete però nel primo tempo erano stati direttamente superiori quindi un tempo per uno un pareggio giusto secondo me sento di che la roma ha fatto una grande partita roma sta facendo un europa league vergognosa per gli avversari che aveva e ancora si deve guadagnare la qualificazione perché deve vincere le ultime due partite per cercare di arrivare a seconda ma stiamo a scherzare cioè qui stanno tutti a festeggiare per un pareggio cazzo ve festeggiate cazzo ve festeggiate punto primo punto secondo ragazzi gli arbitri in europa league sono veramente scarsi c'è pure quello che ieri ha fatti gli danni cioè non ci aveva dato il gomme non male che c'era il bar che ci ha dato sennò avevamo perso ma sui cartellini gialli nel primo tempo c'erano dei falli clamorosi entrate col gommito varto entrate a piede a martello c'è nessuna munizione veramente guardate gli arbitri in europa league sono veramente veramente scarsi detto questo analizziamo e facciamo le pagine allora lui patrissio io lui patrissio volevo dare sei però ho rivisto e rivisto il gol e devo di che gli do cinque e mezzo perché secondo me sul gol si poteva fare di più che la palla non era angolatissima e lui ha una reazione da bradipo cioè veramente sto portiere è in fase di caduta libera secondo me perché quella palla con un colpo di reni la poteva deviare e invece anche ieri come al sole le fanno un tiro e piergo cioè sto portiere ragazzi veramente mi ha rotti i coglioni a me non comincio veramente a non sopportarlo più allora mancini i banets e smoni gli danno tutte 3 6 e mezzo perché obiettivamente ieri hanno giocato bene sono stati attenti non hanno fatto nessuna sbavatura hanno coperto bene la gli attaccanti del betis che hanno avuto pochissimo occasioni per per andare a rete fermo restando che ieri il il centrocampo della roma è stato praticamente nullo almeno nel primo tempo a cristante e matice diamo due bei cinque perché si vede che soccotti fisicamente ragazzi non saregono più in piedi specialmente matice ieri ha fatto una partita veramente sotto tono ma a 34 anni è anche normale giocando tutte queste partite consecutivamente cristante è il solito giocatore raga lento e compassato che non riesce a far cambio di passo ripeto al centrocampo il betis ha tutti i piccoletti che corrono tanto tipo canales e quindi è difficile poi stagli appresso però insomma ieri centrocampo dalla roma al primo tempo ha sofferto veramente tanto poi è entrato camarà a cui diamo un bel 6 e mezzo perché è vero che tecnicamente non è eccelso anzi ha fatto un paio di svarioni da paura però è vero che ha dato più dinamicità più corsa più interdizione a mezzo al campo ha fatto l'assist per gol quindi è un giocatore che secondo me dovrebbe essere utilizzato di più dalla roma e speriamo che murigno lo utilizzi di più insomma a zaleschi do un bel 6 non è ancora lo zaleschi strarivante dell'anno scorso però sta cominciando ad entrare in forma gioca comunque in un ruolo non suo perché gioca a destra e non a sinistra però insomma il ragazzo sta crescendo e speriamo possa stare sempre meglio a spinazzola ragazzi io do cinque e mezzo perché ieri dietro ha fatto dei danni come a grandine specialmente nel primo tempo bagliava passaggi a rotta di colla una tre quarti nostra non riesce più ad avviare l'avversario la domanda volta poi è tornato indietro non l'ha messa in mezzo raga spina deve per forza darsi una svegliata capisco che viene a lungo infortunio ci vuole tempo però non è sicuramente il miglior spinazzola a vigna che poi è entrato a sostituire lo diamo sei e che vigna insomma è quello che è già che non fa nessuna minchiata durante i minuti che gioca già è un successo al mio modo di vedere pellegrini cinque ragazzi ieri peggior partita della stagione del capitano veramente spento veramente poco incisivo con poca corsa qui nel primo tempo quell'occasione circa il pallone non trova più la porta non riesce più a essere decisivo come l'anno scorso io non so cosa gli succede al capitano quest'anno l'anno scorso era stato uno dei migliori quest'anno sembra essere tornato quello dei due anni fa un giocatore discontinuo che non prende mai la porta che non fa mai la differenza io spero che comunque torni magari viene da un piccolo infortunio però io spero vivamente che che lorenzo torni a essere il capitano il giocatore spettacolare dell'anno scorso e che così veramente non ci serve a nulla ad abram diamo sei perché comunque nonostante sia stato impicciato sbagliato tante palle non riesce a fan dribbling non riesce a stoppare la palla però ieri ci ha messo veramente tanti impegni e tanta corsa almeno quello va 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 messo in conto va constatato per cui già che comunque tu ti impegni già è un primo passo però sottoporta raga deve essere deve essere più concreto deve essere più deve essere più concreto come giocatore che per noi è importantissimo che ritroviamo il vero abram perché senza di bala è lui che deve segnare a belotti diamo un bel sei e mezzo anche lui ha corso tanto si è impegnato ha lottato non era semplice nel primo tempo non gli sono arrivate palle sull'unica che è arrivata anche segnato ma gli hanno dato il fuorigioco trova il go del pareggio e comunque un combattente il gallo e ci fa veramente enormemente comodo averlo sicuramente poi entrano anche bovete e sciarauvi a cui diamo un senza voto perché comunque sono andati veramente alla fine io spero che soprattutto il faraone venga impiegato di più perché secondo me quest'anno può essere l'anno di un faraone che ci può regalare grandi soddisfazioni speriamo che murinio lo faccia giocare di più anche lui viene da un infortunio e ci deve essere praticamente molto molto utile a murinio to sei perché comunque non ha perso almeno ha azzeccato i cambi nel secondo tempo però chiaramente ripeto questa europa league a mio modo di vedere in questo momento della Roma è veramente deludente quindi uno dei colpevoli sicuramente anche lui ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate del video commentate tanti like vedremo se riusciremo finalmente settimana prossima a fare una live con micchi per adesso ragazzi vi saluto e vi ringrazio forza roma bassa la lazio e un abbraccione a tutti quanti